Sa! Lascia la miseria, mangi tagliare! Oh, chi è? Chi è? Senti, quanto tempo ci vuole per i passaporti? Un paio di giorni. Ma tanto abbiamo tempo fino a mercoledì. Ma ti hai detto scusa? Mercoledì il 3, perché? Il 3 non ci sono. Che vuol dire non ci sono? Cosa ti caghi addosso? No, 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 non è per quello. Lucia, quale è il problema? Non ci sono. Cosa ti hai? Allora il 3 è l'andata di Coppa Campione. Io e Nando. Non ci rompere il pallo. Io e Nando, cazzo. Come non ce l'ho? Lucia, scontriamo queste fotografie. Sì. Va bene il 3? Sicuramente. Non mi scassi il pallo per tu, eh? Ha detto va bene il 3. È ben detto. Ma c'è, ma... Ma sei strunzato, aveva più una merda con chi? Ho preso il biglietto, ho speso 70.000 lire. Ma che te ne fote, 70.000 lire? Sai quanti biglietti ti accattano? È l'ultima volta che posso andare allo stadio. Hai taccato per uscire, gli strunz. Sembo un gule strunz. Sembo un gule strunz. Sembo un gule strunz. Sembo un gule strunz. No, pukalants. Minibo un gule strunz.